Quindi abbiamo detto in buona sostanza è la struttura che nella maggior parte dei casi si trova a far fronte a questo tipo di pretese risarcitori. Quando entra in ballo il professionista ce lo dice l'articolo 9 della legge Gelli in cui si dice l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente della professione può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Primo capoverso direi di una chiarezza evangelica. Dopodiché l'importo della condanna, taglio tutta una serie di dettagli che qui non rilevano, l'importo della condanna per colpa grave per ogni singolo evento non può superare il triplo della retribuzione annua lorda. Questa è un'altra grande novità tutta a favore dei professionisti perché con la legislazione previgente a fronte di un danno pagato di un milione, due milioni, insomma di un importo molto molto elevato, l'esercente della professione poteva essere oggetto di un'azione di rivalsa per l'intero importo. Adesso non è più così, c'è questo massimo di tre anni di stipendio lordi. Quindi il teorema che vigeva prima faccio un'attività ad alto rischio, svolgo un'attività ad alto rischio o meglio i danni che posso produrre sono potenzialmente piuttosto contingenti, ergo mi servono dei massimali molto elevati, due, tre, quattro, cinque milioni di euro, adesso non è più così. Il massimale corretto è relativamente, è connesso alla retribuzione percepita. Dopodiché quello che cambia fra il personale alle dipendenze di strutture sanitarie pubbliche o di strutture sanitarie private fondamentalmente è la sede giurisdizionale in cui si andrà a discutere di questo fatto, nel senso che la giurisdizione competente per questioni legate all'amministrazione pubblica è la Corte dei Conti e quindi sarà questo il tribunale, la procura regionale della Corte dei Conti in cui si andranno a discutere questioni legate alla colpa grave di un dipendente pubblico, mentre sarà un giudice di merito, un giudice di primo grado, quello di fronte al quale andranno a discutere un soggetto privato, la casa di cura privata, e un altro soggetto privato, cioè il dipendente della stessa per un'azione di rivarsa, ma fondamentalmente e concettualmente non cambia nulla.